Chiunque avesse informazioni o riconoscesse questo volto può scrivermi in privato o contattare i miei familiari. E' questo l'appello diffuso in rete con tanto di foto di uno dei due ladri ripreso a pieno volto da una famiglia di Castiglion Fibocchi vittima di un furto. Le immagini postate su Facebook sono quelle immortalate dalle telecamere di videosorveglianza. Sono state diffuse con uno scopo ben preciso, rintracciare l'autore del colpo messo a segno nella propria abitazione. Il furto risale alla scorsa domenica quando attorno alle 20.15 alcuni malviventi si sono introdotti all'interno della villetta a Meliciano, frazione alle porte di Arezzo. I malviventi con una smerigliatrice avrebbero aperto la cassaforte per poi darsi alla fuga con un Rolex ed altri preziosi in oro. A raccontare l'episodio sono stati i proprietari di casa che in un posto hanno scritto. I signori parlano italiano con inflessione a retina, conoscevano la casa tramite indicazioni di altri signori altrettanto rispettabili. Inoltre è stato indicato anche il nome di uno dei due malviventi ed il modello dell'auto incrociata dai proprietari mentre rientravano a casa. Una Seat Leona scrivono una Mazza 3 grigia metallizzato chiara, nuova e pulita. Da qui dunque l'appello delle vittime su Facebook. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri di Castiglion Fibocchi. Ma intanto sono stati tantissimi gli aretini che hanno deciso di condividere le immagini postate per riuscire così a identificare i responsabili del raid.